Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video, nuovi supporti sempre da Fotoner per Nova Prima di iniziare come sempre il video iscrivetevi al nostro canale e passate al link in descrizione Prima di sapere giocare con il mondo Yu-Gi-Gi e non solo, grazie mille E andiamo a vedere nuovi supporti Spring Guns bar Raterion Forse ragazzi domani mattina non metterò video Perché ci sono un po' di problemi tecnici, quindi non so se riuscirò a portarvi un video Al limite mi scuso per domani mattina ma poi la programmazione riprenderà tranquillamente A meno che non ci siano aggiornamenti, in quel caso cercherò di portarli assolutamente E andiamo a vedere nuove carte, allora Gigante in Champions Sargas, era anche 8 generico Possiamo utilizzare, possiamo giocare questa carta utilizzando un mostro Spring Guns Xyz E quindi gli mettiamo super materiali, effetti una volta per turno Se questa carta ha materiali possiamo aggiungere un Spring Guns oppure una carta Terion Dal deck alla mano senza staccarlo il materiale, quindi veramente molto forte Poi se un materiale Xyz viene staccato possiamo targettare una carta sul terreno e possiamo spaccarla o rimbalzarla in mano Quindi non per forza da lui il materiale viene staccato Un materiale Xyz qualsiasi rimbalza o spacca E in più ti aggiunge Spring Guns o Terion Grande addino Magia rapida Terio Spring Guns Possiamo utilizzare il primo e il secondo effetto una volta per turno Quando attiviamo l'effetto di questa carta possiamo anche staccare 3 materiali da un mostro Xyz Allora effetto 1 Aggiungiamo uno Spring Guns dal deck alla mano Poi se abbiamo staccato un qualsiasi materiale Quando abbiamo attivato questa carta possiamo specialare lo stesso numero di Spring Guns dalla mano E oppure cimitero Fuori di testa Fuori di testa Se questa carta è nel cimitero possiamo targettare un mostro Xyz sul terreno Stacchiamo un materiale da esso E se lo facciamo aggiungiamo questa carta alla mano Molto buono perché va in combinazione anche con lui e con qualsiasi altra roba Che quando viene staccata magari triggerà effetti Molto molto forte E poi andiamo a vedere il Gigantic Thunder Cross Trappolo normale Targettiamo un mostro sul terreno e nel cimitero Quale è la differenza del numero delle carte bandite di entrambi i giocatori E li bandiamo Poi l'avversario può specialare il mostro del suo deck Ok avrà sicuramente la sua utilità ma Credo credo Che comunque sia una discreta carta Il problema va sempre con il nome delle carte bandite Però la differenza Mettigli un O3 e l'O con un O0 dovrebbe essere il 3 Quindi è abbastanza Potrebbe essere abbastanza sbroccata come carta Comunque supporti niente male Molto forti Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi cosa ne pensate Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video E un saluto a tutti